Diciamo, riprendiamo questo Linux Day oggi. Allora, adesso ci sarà una parte che è quasi standard ed è un must del Linux Day Napoli, ed è il Barcamp. Il Barcamp è quella parte del Linux Day dove i relatori sono a stretto contatto con il pubblico e diciamo sono spesso delle vere community. Ricordiamo che quest'anno il tema internazionale del Linux Day erano proprio le community open source. A questo punto vi presento Luigi Teschio, che è uno studente del liceo scientifico, giusto? E ci parlerà appunto delle community, della loro potenza che hanno. Buon pomeriggio a tutti. Quando ho voluto scrivere questa presentazione ho pensato molto al concetto di community. Si parla molto dei software libero dell'open source, ma ho visto poche fonti, pochi siti che evidenziavano molto l'aspetto della community. In questa presentazione vedremo come partecipare ad una comunità, perché partecipare ad una comunità ed alcuni eventi che sono avvenuti negli anni più recenti che mi hanno colpito profondamente e mi hanno fatto capire di come la comunità sia fondamentale per un progetto libero. Partiamo innanzitutto dal concetto di comunità. Nella sua recensione originaria il termine si definisce realtà sociali basate sul territorio, caratterizzati da legami forti, non scelti ma già dati. Le comunità così si caratterizzavano come insiemi di persone dove era difficile uscirne. Le comunità virtuali, il luogo dove si inseriscono le comunità del free software e dell'open source rappresentano un concetto molto diverso da quello detto in precedenza. Infatti, oltre a permettere un accesso più immediato, permette anche una maggiore condivisione di conoscenza che si realizza attraverso l'interazione tra i partecipanti. I progetti open source vengono sviluppati tipicamente da comunità di programmatori e utilizzatori che condividono l'interesse verso una determinata applicazione e tecnologia. Le comunità di sviluppo sono spesso di ampio respiro internazionale e a volte raggiungono dimensioni gigantesche. Basta pensare al kernel Linux che in pochi anni ha creato una comunità vastissima e ha creato uno dei kernel più affidabili e sicuri che esistono. Comunità quindi significa supporto, evoluzione, scambio culturale, utilizzo degli standard aperti per consentire una facile integrazione con altre tecnologie ed altre comunità. Adesso vediamo i vari strumenti con cui può formarsi una comunità. Il primo strumento, forse il più datato, ma ancora oggi è fondamentale per la creazione di una comunità, è la mailing list. Questo è un messaggio rilasciato da Linux Torbars, molti di voi lo conosceranno come il creatore del kernel Linux, e rilascia un messaggio dicendo di aver creato un kernel solo per divertimento e che non sarebbe mai stato grande e professionale come il progetto GNU. Ovviamente sappiamo com'è andato a finire. Internet Relay Chat è un protocollo di messaggistica istantanea su internet che consente sia la comunicazione diretta fra utenti, ma nel caso più specifico permette il dialogo contemporaneo di più persone raggruppati in una stanza chiamati Canali. Questo è l'invito della comunità italiana di Buntu ad entrare nel canale IRC della comunità per ricevere sia supporto e sia per contribuire attivamente. I forum sono piattaforme piuttosto conosciute, in questa immagine ad esempio il forum di Fedora Italia. GitHub e Simili sono invece dei servizi di hosting per lo sviluppo dei progetti che usano il sistema di controllo GID. Oltre ad ospitare il codice ci sono spazi sia per la discussione sul poco riguardante il progetto e anche per la segnalazione di bug. Non solo il software trae dei vantaggi dalla community, ma anche l'utente. Qual è il vantaggio fondamentale per il software per cui esiste la comunità? A me, quando mi sono posto questa domanda, mi è subito passata in mente la cosiddetta legge di Linus. Dato un numero sufficiente di occhi, tutti i bug vengono a galla. La citazione di Linus Torvalds è chiara ed immediata. Più occhi analizzano il codice, più c'è probabilità che un bug venga trovato e risolto. Qualità del codice è nettamente superiore. Questa immagine è stata realizzata da Coverti Scan nell'anno scorso. Coverti Scan è un'azienda che analizza la qualità del codice. Valori più bassi sono sinonimo di qualità. In questo caso vediamo che la media del software proprietario è circa dello 0,80 mentre per quella della media del software, la qualità del codice del software libero è di circa 50. ovviamente la qualità di LibreOffice internazionale si è vantata del loro progetto in quanto la qualità del codice di LibreOffice era altissima. Infatti gli errori nel progetto avevano un valore medio di solo 0,08. Ma quali sono alla fine i vantaggi per l'utente? Il primo è la crescita personale. Stare a contatto con tantissime persone di diverse culture, di diverse età e modi di pensare ti fa accettare la diversità, ti fa conoscere nuovi e diversi modi di pensare. Le comunità ti migliorano. Un altro vantaggio per l'utente è il curriculum. Questa immagine è lampante. Cercasi apprendista con esperienza. Contribuire a un progetto open source e di conseguenza partecipare alla comunità fa curriculum e bastano pochissime ore alla settimana. Il supporto tecnico è uno dei cardini principali per una comunità. Basti pensare che molti utenti cercano una distribuzione rispetto ad un'altra semplicemente perché è più sopportata dalla comunità. Quindi avere persone che gratuitamente cercano di dare una mano e di aiutarti a risolvere un problema è sicuramente un grosso vantaggio perché contribuire per la possibilità di crescita professionale, abbracciare e sostenere la filosofia open source per la crescita personale e per migliorare il mondo. Chi può contribuire alla community? Questo è un mito da sfatare. Chiunque può contribuire alla comunità. Neofiti, principianti, utenti intermedi. Utenti esperti? Praticamente tutti. Adesso vediamo dei vari modi con cui contribuire e partecipare alla comunità. Il primo è il bug report. Segnalare il bug è quindi uno dei metodi principali per prendere parte alla comunità. I maggiori progetti mettono a disposizione piattaforme dedicate dove basta semplicemente segnalare il bug agli sviluppatori. In immagine è la piattaforma di bug report dedicata alla famosa distribuzione ArcLinux. Un altro modo per partecipare alla comunità è tradurre un progetto. Tradurre un progetto è fondamentale in modo tale che il progetto possa essere usato e condiviso da più persone. Anche questo non richiede conoscenze tecniche informatiche ma semplicemente la conoscenza della lingua perché anche in questo caso gli sviluppatori mettono a disposizione una piattaforma dedicata dove basta semplicemente tradurre il testo che appare in display. In immagine l'invito della Conomo Foundation a partecipare all'oro team di traduzione. Lavorare sul codice è forse l'unico punto che richiede una conoscenza prettamente informatica. Questo è il grafico che ho preso dal progetto di GitHub e indica quante persone hanno contribuito al progetto Linux dal settembre del 2001 fino all'agosto del 2015. Infine per gestire i server, hosting ed altre spese c'è bisogno di soldi. Quindi un altro metodo per contribuire alla comunità è fare delle azioni. Questo è un invito della Free Software Foundation ad aiutarli economicamente facendo una donazione in modo tale che potessero continuare ad essere indipendenti. Un altro metodo è la promozione. Più persone, se poi pubblicizzate il vostro progetto open source preferito, più persone potranno utilizzarlo, più persone conosceranno quel progetto e di conseguenza più persone potenzialmente potranno far parte della comunità. Questa immagine è un video musicale rilasciato su YouTube da Novel ed è una canzone dedicata a Linux. E infine dare supporto agli utenti è l'ultimo aspetto con cui un utente può contribuire alla comunità. In immagine è il progetto di Ask Fedora, che è una piattaforma simile all'Answer, però dedicata semplicemente a Fedora. Adesso vi illustrerò degli eventi che mi hanno fatto capire quanto la comunità sia importante e di come riesce a superare grandi aziende. Il primo evento è quello di GNOME contro Groupon. Nel novembre del 2014 il gigante dei coupon elettronici decide di commercializzare un tablet GNOME by Groupon. Molti di voi sapranno che GNOME è un desktop in private ed è uno dei più amati e utilizzati nell'ambiente open source. Ricordiamo che GNOME è un marchio registrato dalla Groom Foundation dal 2006. La fondazione quindi ha deciso di contrastare il colosso dei coupon elettronici per via regali e difendere così il marchio. Ovviamente potrete capire che una fondazione no profit troverà sicuramente difficoltà a sostenere le spese economiche e che incontrò una grande azienda come Groupon. Quindi la fondazione decide di lanciare una campagna con l'hashtag Defend GNOME e di lanciare una campagna donazioni. Solo dopo 24 ore Groupon si dire indietro e decide di cambiare nome al loro tablet. Questo è il messaggio finale della GNOME Foundation che ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al progetto, che hanno contribuito alla campagna e potete vedere che avevano raggiunto una cifra pazzesca, circa 100.000 euro che adesso sono stati tutti rinvestiti nel progetto. Popcon Time è un altro progetto che mi ha colpito particolarmente. Popcon Time è un client BitTorrent open source per lo streaming dei video. Diciamo che questo si basa sulla rete torrent e permette lo streaming dei film. Questo progetto fu realizzato da quattro ragazzi di Buenos Aires che però si viderò che l'organizzazione americana dei produttori cinematografici decisero di stoppare il progetto passando per via locali. Fortunatamente il codice sorgente era libero, era caricato su GitHub e ha permesso ad altri sviluppatori di terze parti di portare avanti il progetto originario che ancora oggi viene utilizzato e sviluppato. Questo è il messaggio finale dei quattro ragazzi da sottolineare soprattutto la parte finale dove loro dicono che la loro applicazione era stata data tutta in 32 lingue e non avevano capito nemmeno 32 lingue di molte delle quali non conoscevano nemmeno l'esistenza. Loro adesso sono riusciti a capire quanto la comunità open source possa fare e sia importante. Quest'ultimo è un esempio un po' particolare ma che mi sta sempre a cuore in quanto un hacker chiamato Salvatore Iaconesi ha scoperto di avere un tumore al cervello. Non soddisfatto dalle risposte ottenute e dal modo con cui era stato trattato decide di creare un sito web chiamato Labura. Salvatore invita artisti, design e hacker a partecipare a tutti i tipi di artisti a interessarsi alla sua malattia. Diciamo che anche grazie all'aiuto della comunità adesso Salvatore Iaconesi è guarito. Adesso viene ancora degli errori da vetare per entrare in una comunità perché a volte capita che un utente, un principiante, insista su alcuni concetti e non capisce che nella comunità non c'è solo lui. La comunità non è un'azienda e non va trattata come tale. La comunità non è gentile né grecia e non firma accordi di collaborazione e di distribuzione. La comunità sfrutta l'intelligenza condivisa per cui è inutile sbandierare di essere competenti. La comunità va solitamente più di quello che riceve poiché ci si approcci il modo corretto. Questo è un dato di fatto, stando con tantissime persone di diversi modi di pensare è normale che si impari sempre qualcosa. Ma quali sono i consigli utili per contribuire attivamente ad una comunità? Essere umili perché si troverà sempre qualcuno da cui imparare. Essere pacili o pazienti perché le decisioni vanno e prese sempre sulla base del consenso. Essere autonomi perché non c'è un capo che ci dice cosa fare. Forse questo è uno degli aspetti più belli della comunità. Siamo tutti degli appassionati che cerchiamo insieme con le nostre capacità di migliorare un software open source. Non abbiamo nessun capo, nessuno che ci dice cosa fare. Siete liberi di contribuire in qualunque modo volete. Adesso ho deciso di fare delle piccole osservazioni finale. Perché entrare in una comunità open source? La più importante idea dietro alla filosofia dell'office software è imparare. Le persone forniscono i loro codici per permettere ad altre persone di imparare. Stessa cosa per esperienza, posso pensare soprattutto a questo talk. In questo talk ho voluto condividere la mia esperienza, la mia idea di comunità, sia con chi è nuovo, sia con chi è veterano. Perché voglio avere un feedback dagli altri e vedere dove ho potuto sbagliare e se ho messo alcuni punti. Quindi bisogna partecipare attivamente ad una community per divertirsi indipendentemente dall'età e per la voglia di imparare, sia per la voglia di imparare ma anche per divertirsi. Quanto è importante la comunità? La comunità è fondamentale per un progetto open source. La chiave per il successo di una tecnologia o di un software appunto è la comunità. Infine vi voglio lasciare con una frase che mi ha colpito dalla prima volta che l'ho vista e mi ha colpito profondamente. Mi ha fatto capire di come scambiarsi le idee sia un modo per creare un mondo migliore. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon Linux Day e vi vorrei solo dire che Linux Day 2015 è una delle tendenze di Twitter quindi la comunità anche oggi ha vinto. Se ci sono domande... Ci sono domande...